L'idea di collaborare con il Politecnico di Milano per questo progetto è nata essenzialmente dalla mia conoscenza di questa istituzione universitaria e dal fatto che io come ingegnere del Politecnico apprezzo molto il lavoro che viene svolto qui. È tra le più appropriate per il tipo di business che noi conosciamo. Gli studenti del corso sono rimasti entusiasti, teniamo conto che la proposta aveva da una parte il concorso Amazon, dall'altra era anche utilizzato come uno strumento didattico e come uno strumento di valutazione. 200 studenti hanno partecipato alla competizione, 40 progetti in tutto presentati. E noi siamo entusiati sono Davide Nisi, Diomelin, Maxime, Jolie e Mohamed Saleh. La cosa che ci ha sorpreso in generale di più è la capacità di questi studenti di capire il commercio elettronico in così poco tempo e di contribuire in modo innovativo con una visione chiara di quello che succederà nei prossimi anni nell'ambito del commercio elettronico. Gli studenti del corso che mi ha piaciuto durante i due giorni di visito qui Amazon è stata oggi la visita del FCI, dove abbiamo potuto vedere il sistema Kiva, che è il sistema di robot rullo sul sul, che permette di scegliere le stagione e le porto per il pick-in. La cosa che mi ha impressionato più durante il viaggio a Seattle è stata la presentazione che abbiamo fatto con mio gruppo a Davide Clark. La cosa che mi ha impressionato di Amazon è stata l'imaging studio. C'è una continua innovazione nel processo, e quindi lo studio delle persone e dell'impatto emotivo che potrebbe avere sul consumatore. Personalmente non avevo mai pensato alla fotografia come un processo industriale. Questa visita è stata molto utile per me, perché mi ha permesso di comprendere che non sono solo le hard skills che sono necessari, ma anche le soft skills. Al prossimo episodio